Oggi, come studenti e studentesse di vita, abbiamo deciso di mobilizzarci insieme, unendoci alla campagna di Ambossi Occupy. In questi mesi, in particolare nell'Assembliese Medici, ci siamo rete conto della necessità di fermarsi e trovare lo spazio e il tempo per organizzarci. Ogni facoltà sarà un'occupazione, guerra e devastazione, ogni facoltà sarà un'occupazione. Oggi, come studenti e studenti, ci siamo rete conto della necessità, ogni facoltà sarà un'occupazione. Siamo rete conto della necessità, ogni facoltà sarà un'occupazione. Grazie!